Anche qui dietro di me c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità e la vita. E grazie a Dio anche oggi sono venute varie persone, hanno udito il messaggio della parola e già al vario gruppo che stiamo leggendo abbiamo letto dal Vangelo secondo Marco di questa ragazza, di questa donna libanese, questa donna siriana, che voleva che il Signore Gesù la guarisse e guarisse la sua figlia e lui l'ha guarita poi quest'altra persona. Miracoli, miracoli all'ingrosso grazie a Dio. E quindi è stata fatta anche la preghiera per accettare il Signore Gesù e vediamo se adesso tra le varie persone c'è qualcuno tra di voi che ha qualche domanda da fare. E grazie a Dio!